Siamo qui con Marco che mi sta per dare un gancio, no, attenzione, attenzione Allora, appena arrivata, appena arrivata, ECO MMA, tutta la collezione, difficile da trovare Oh, MMA mi stavi spiegando, è un nuovo sport Che è uno sport mix martial art, cioè un mix di tutte le arti marziali Bellissimo E molto in voga anche in Italia, piano e piano sta prendendo i vedi Questo è, diciamo, molto bello Sì, sì, è proprio la collezione sviluppata da... E questo è un parastinchi? Sì, paradibbia e paradibbia Sì, è realizzato da ECO perché ECO ha preso come sponsor, diciamo, tutto il campionato di MMA americano E infatti, 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 sulle magliette ha messo un buono sconto ECO, eh? Sì Un buono sconto, sempre della linea MMA Un buono sconto per una rivista americana molto famosa Che forse in Europa non si conosce tanto, però, diciamo, è il punto di riferimento di questo sport in America Ecco, vediamo, questa è una maglietta quindi della ECO Se ne danno tante Più che di prendere, di vincere Di vincere, certo Original MMA, molto bella, il teschio con il rinoceronte che è il simbolo dell'ECO, giusto? Eccolo qua, infatti, il marchio ECO Unlimited Sì, ecco la che è bella È ok Molto particolare Andiamo avanti, qualche altro prodotto dell'ECO e tu la tratti... Beh, quello fa vedere prima la più bella, secondo me Ah, eccola qua La più bella della collezione MMA che è questa Eccola qua Che è un nero con un rosso rubino stampato, proprio particolare Sì, 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 sì Un rilievo Bella, bella Molto particolare Bella anche la sera, no? D'estate, uno quando va in discoteca Sì, sì, stai già metà palestra Però, però, è elegante anche da indossare per strada E poi, attacchiamo con la collezione ECO 2013 Partiamo con la linea SMOK Perché linea SMOK? Perché... E' al basso, ecco Per chi conosce questo simbolo SMOKERS No, no, non ci diamo all'uso di droga Però, è famoso in Olanda Excuse me while I light my spliff Scusami quando io accendo La mia spliff sarebbe La mia canna Sul suo spinello Sul spinello, sì Chiamiamolo così E alcune... Questa è la linea... Vabbè, ma diciamo che è semilegare Realizzato, diciamo Questa è la linea SMOK Puff Puff RAS Questa è sempre della ICO Molto bella Andiamo avanti L'ultimo modello Poi ci sono dei clienti Sì, sì, no, no Sono Sayed Sayed Però, chiudiamo con l'ultima Prima di farli entrare Aspetta, aspetta No, vai, va, tranquillo Eccolo qua Ancora lunga Eccolo qua Ok Questa è la maglietta più bella Dopo riprendiamo Aspetta, aspetta Aspetta No, cuidiamo il video Questa è la più bella Tutta la collezione Sì, infatti è molto bella Molto particolare Ha ripreso le vecchie grafiche Degli anni 70 Visto che comunque Mario che è nato nel 72 Sta ricominciando A utilizzare vecchie stampe Che comunque Sono sempre accattivanti E stupende Benissimo Aspetta